Il 3 giugno a Campobasso la tradizionale emozionante sfilata dei misteri gli ingegni nati dall'arte e dalla sapienza, tecnica di Paolo Saverio di Zinno di cui quest'anno ricorrono i 300 anni della nascita. In città fervono i preparativi per un evento atteso tutto l'anno che richiama migliaia di persone. I misteri sono nel museo, nel capoluogo, dove è stata presentata la decima edizione della Domenica dei Misteri, i nuovi personaggi e tutto è stato illustrato dall'Associazione Misteri e Tradizioni da 50 anni. La famiglia Teberino si occupa della sfilata e degli ingegni. Diamo pubblicità della pubblicazione appunto la Domenica dei Misteri che è giunta la decima edizione, presentiamo anche un fumetto con la vita di Paolo Saverio di Zinno in occasione del suo 300esimo anno dalla nascita. Presentiamo i personaggi che parteciperanno alla processione di domenica, quindi la donzella, i diavoli, i conti e quanti appunto presteranno la propria immagine per la buona riuscita della processione dei misteri. Il papà nel 1968 organizzò dopo la gestione Tucci la processione degli ingegni. C'è stato lui fino al 97 e poi dal 97 l'associazione. Ha detto che la famiglia Teberino è come dire una componente della grande famiglia dei misteri. Tentata dai diavoli con lo sguardo che dovrà essere impassibile nella sua bellezza la nuova donzella Sara Kalaf di padre egiziano, 28 anni, laureata in biologia all'Università del Molise, imprenditrice. Una grande emozione, è da tanto tempo che volevo interpretare questo ruolo e quest'anno per fortuna ce l'ho fatta. Un ringraziamento speciale ovviamente alla famiglia Teberino che mi ha dato e mi dà la possibilità di interpretare questo personaggio importantissimo. Spero ovviamente di riuscire a farlo nel migliore dei modi possibili e soprattutto di non ridere. Diciamo che ce la metterò tutta. Questa è l'emozione grande, il fatto di doversi ritrovare in mezzo a tanta gente, però riconosco che è una tradizione bellissima e che dovremo comunque mantenere alta anche per il nome di Campobasso.